allora siamo col mister olaf il top king lui è quello che va il defender giusto invece adesso c'è il chiroki scatola giapponese allora dove si va oggi oggi andiamo a castel raimondo poi andiamo a pioraco località amena l'appennino marchigiano top di gamma come sempre il rumore cosa ha la cintura il rumore è la cintura che non la metto quindi non rompe di grande olaf che in realtà si chiama fabio l'ho scoperto oggi grande fabione questo video per ghiare guidone che così almeno sa che siamo col bro il proprietario della ristoria appizzorante guidone a pioraco trattoria dall'aila vinello passerina un litro 5 euro facciamo un brindisi a olaf che si chiama fabio in realtà che l'avete visto nei video di iari perché lui ci aveva il defender poi praticamente l'hanno arrestato è perché ha fatto una truffa allo stato è tutto diventato povero ridurre però di quella cosa di prima di quelli ipnotizzati dai che tanto lo sai io sono così modizzati questo messaggio per voi che vi vedete in città spegnete la televisione uscite dall'ipnosi venite in mezzo a queste montagne almeno ritornate a respirare l'ossigeno perché il virus al virus al virus al ministro speranza mario draghi il bro conte ha ipnosi globale collettiva perché io che cosa no no adesso devi dire quello che ci ha allora questo troccolino alla laila il troccolo uno spaghettino parato cosa c'è dentro pancetta tipo si è il sugetto c'è un soffrittino pomodorini pancetta molto bene salutiamo sempre iari ghidono si si salutiamo iari ghidono e la sua ristoria pizzorante gliari se non ci fai le pizze le pizze le prendi tu questo allora questo filetto di soia questo è soia per i vegani al ave questo è buono tofu 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 mmm che buono il tofu mmm a mangiare il tofu perché buono anche secondo me provo quelle provo prima questa no no questa buono? mmm mamma mia secondo me è una roba vegana questo no provo il tofu il tofu provalo perché c'è anche un po' di seitan bestie di seitan quindi secondo me è una bomba sta roba no no Marche numero uno numero uno mmm mmm ricordiamo ancora dove siamo a Pioraco provincia di macerata nelle marse trattoria Laila giusto trattoria Laila dove hai? troppo lo so che vuoi mangiare bro infatti adesso ti mi ha smetto di infatti di ma io mangio di infastidissimo mmm e il vino è quasi finito quindi facciamo ricordà devi riempirlo riempirlo comunque sta roba è tipo alien mangio pure dal piatto no 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 il video lo chiamano scroccare in campo full timer scroccoa king Laila comunque bisogna dire che adesso vi faccio vedere un po' fame perché mmm questo qua è una bomba no 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 pinca chiama il bro che hai portato eh no chiama il vinello perché cioè no ma che potremmo anche fare una nazione a parte dici si si ma il bro è finito vino io se non bevo il vino divento nervoso eh vai chiama il bro vai se vuole signorina un po' di vinello e lui ti sa mangiare no non c'è mai io mi sono mangiato metà perché me l'ho scopanato da solo da una scala da 0 a 10 e 12 o meno comunque salutiamo sempre gli arichidoni salutiamo sempre gli arichidoni che se non fa le pizze ripeto le prende le pizze dopo veda lui cosa deve fare non è che ci puoi portare un altro vinello è bianco te le porto sempre puoi fare un saluto sul mio canale youtube ti faccio lo sponsor dai dici dove si ha dai perché ciao 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 ragazzi grande top ragazzi io già sto sudando Fabio sta vivendo l'acqua però gli ho detto hai preso un mezzo litro no a quanto hai preso un litro ho preso un altro litro il vino il vino si serve a litri il mezzo litro non esiste non c'è davvero di dare misura è il litro è il litro il mezzo litro è la misura del fallimento io sto scoppiando non ne posso più però vabbè tanto tutto gratis che cazzo se ne frega tanto paga lo stato eh lo stato forza naspi grande naspi top reddito e naspi godono perché bene signori si bene per godere di più dovete venire nelle marche nelle marche di bianco no no un litro ho detto un litro ho detto un litro non stiamo qua a scherzare come fai a mollire di sede? che cazzo è allora 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 vai vai dici tutto adesso viene anche lezione lezione di varnelli di varnelli vai benvenuti nelle marche ok voi stranieri che non siete avvezzi e che siete avvezzi magistrati no senti che linguaggio aulico eh se non siete avvezzi all'uso di questo di questo liquame prodotto ah ma non è acqua questo? no no questa non è acqua te lo giuro allora vieni qua questa è acqua santa allora dobbiamo dare un grosso abbraccio a lei si assolutamente poi se vuoi mi vedi sul mio su youtube diciamo al presupposto che questa non è acqua ok questa è acqua santa vai questa è l'acqua santa della muccia vai anice secco speciale ok questo è il varnelli è tipo quando si usa si usa per scrostare le tazzine ok voi bevete il caffè caffè vediamo come si fa che buono il caffè poi inquadra qui Giamma mi raccomando il varnelli va usato come sgrassante va fatto girare io penso che non riuscirò mai a fare una cosa del genere si si guarda 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 va fatto girare nella tazzina sgrassi tutto il caffè poi si beve allora facciamo così bro io bevo il caffè tu fai quella roba io ti riprendo no io bevo il caffè poi tu fai no 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 se cerchi camper Giamma mi trovo vai Giamma camper Giamma allora vai bevi grazie buona giornata grazie a voi benissimo Giamma hai bevuto il tuo caffè adesso fai tu pulisci tutto allora butti questo dentro poi giri con un movimento alieno alieno benissimo bravo bravo fai vedere a tutti che si è sciolto tutto il caffè penso di sì pulendo perfettamente adesso te lo devi bere a stucco però a stucco vuol dire così a stucco vai perfetto ecco ecco come si beve il varnelli vai benissimo allora secondo me possiamo chiuderla qua sì un bel saluto da da Fabio un saluto da Maria Maria che è proprietaria del no per niente no però facciamo un film dai allora facciamo uno sponsor Piorago Piorago Trattorio Dalaila vai venite qua codice sconto di codice sconto che è sconto quindi si risparmia 25 euro però si mangia bene si mangia benissimo ah io ho sempre mangiato bene 25 euro 25 euro sì sì ti faccio il bonifico sulla pay non preoccuparti va bene faccio io faccio io sì 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 io ognuno che conosco lo porto a magna qui perché e poi dopo dopo dovremo decidere loro però adesso serve la chiusura una di voi due deve venire qua e fare cosa devo fare vieni qua top e adesso andiamo a fare il bar tu giusto sì adesso facciamo la parigi da bar ok che cos'è la parigi da bar noi partiamo da questo aspetta che mi sa che ora c'è la tipa di prima qua no ma che no ma fai le allucinazioni ormai quella di prima era lì no devo fare una pisciata ahahahahahahahahah guarda qui guarda che bello guarda che bello 20 euro al giorno 20 euro al giorno andate a c***o ghiaccio e tequila perché tu l'hai imparato a farlo esatto perché per far vedere che sei un bravo ragazzo alla mattina tu bevi il tè freddo invece no c'è la tequila nel tè freddo quindi tu fai finta di bere il tè freddo assolutamente 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 dissimulare l'ho detto prima dissimulare eccolo qui chi c***o comunque bro sei un c***o di chi eh poi ci mangio un po' di schifetto sei qui in provincia di Maserata Barretto Top qua dove siamo? vicino Camerino all'Eppeninghi mmmm